ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco blen rep glaxos mitocline spa ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cosa blen rep confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere blen rep durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cosa a blen rep blen rep a un farmaco a base del principio attivo belanta ma mafodotin appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico anticorpi monoclonali e commercializzato in italia dall'azienda glaxos mitocline spa blen rep può essere prescritto con ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura adesso assimilabile confezioni blen rep 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione uso endoveno su uno flacon ceno informazioni commerciali sulla prescrizione titolare glaxos mitocline irland limited concessionario glaxos mitocline spa ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura adesso assimilabile classe cn principio attivo belanta ma mafodotin gruppo terapeutico antineoplastici forma farmaceutica polvere indicazioni blen rep ha indicato in monoterapia per il trattamento del mielloma multiplo nei pazienti adulti che hanno ricevuto almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia risulta refrattaria ad almeno un inibitore del proteasoma un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale antici di 38 e che hanno mostrato progressione di malattia all'ultima terapia posologia il trattamento con blen rep deve essere iniziato e supervisionato da medici con esperienza nel trattamento del mielloma multiplo cure di supporto raccomandate i pazienti devono sottoporsi ad esame oftalmico che includa acuità visiva ed esame alla lampada a fessura eseguito da uno specialista oftalmologo al basale prima dei successivi tre cicli di trattamento e come clinicamente indicato durante il trattamento vedere paragrafo 44 i medici devono avvertire i pazienti di utilizzare lacrime artificiali senza conservanti almeno quattro volte al giorno a partire dal primo giorno di infusione proseguendo fino al completamento del trattamento in quanto cia può ridurre i sintomi corneali vedere paragrafo 4 4 per i pazienti con sintomi di secchezza oculare possono essere prese in considerazione terapie aggiuntive in accordo a quanto raccomandato dallo specialista oftalmologo posologia la dose raccomandata di 2,5 mg bar a chilogrammi di blender e somministrato per infusione endomenosa una volta ogni tre settimane si raccomanda la continuazione del trattamento fino alla progressione della malattia o alla tossicità inaccettabile vedere paragrafo 44 modifiche posologiche gli aggiustamenti alla dose raccomandata per le reazioni avverse corneali sono riportati in tabella 1 la tabella 2 riporta gli aggiustamenti alla dose raccomandata per altre reazioni avverse gestione delle reazioni avverse corneali le reazioni avverse corneali possono includere risultanze all'esame oculare e barra o modifiche dell'acuità visiva vedere paragrafi 44 e 48 il medico curante deve rivedere il referto dell'esame oftalmico del paziente prima della somministrazione e deve stabilire la dose di blen rep sulla base della più alta categoria dalla referto per l'occhio colpito con maggior severità in quanto può non esservi lo stesso grado di interessamento ad entrambi gli occhi tabella 1 durante l'esame oftalmico lo specialista oftalmologo deve valutare quanto segue i risultati dell'esame corneale e il declino della migliore acuità visiva corretta bocva best corrected visual acuiti se vi ha il declino della bocva deve essere stabilita la correlazione tra gli esiti dell'esame corneale e blen rep devono essere segnalati al medico curante il grado di classificazione maggiore per i risultati dell'esame e la bocva tabella 1 modifiche della dose per reazioni avverse corneali categoria risultati dell'esame oculare modifiche della dose raccomandata lieve risultato i dell'esame corneale cheratopatia superficiale lieve modifiche del bocva declino rispetto al basale di snellen continuare il trattamento alla dose attuale moderata risultato i dell'esame corneale cheratopatia superficiale moderata modifiche di bocva declino rispetto al basale di due o tre linee e non peggiore di 20 200 dell'acuità visiva secondo snellen sospendere il trattamento fino a miglioramento dei risultati dell'esame e della bocva ad una severità lieve o migliore considerare di riprendere il trattamento ad una dose ridotta 1,9 mg barra chilogrammi severa risultato i dell'esame corneale cheratopatia superficiale severa difetto corneale epiteliale modifiche di bocva declino rispetto al basale di piadi tre linee sospendere fino a miglioramento dei risultati dell'esame e della bocva a una severità lieve o migliore nel caso di peggioramento dei sintomi che non rispondono all'appropriata gestione valutare l'interruzione alla categoria di severità ha definita sulla base dell'occhio colpito con maggiore severità in quanto può non esservi lo stesso grado di interessamento ad entrambi gli occhi b che ratopatia superficiale lieve peggioramento documentato rispetto al basale con o senza sintomi c che ratopatia superficiale moderata con o senza depositi a simili a microcisti offuscamento subepiteliale periferico o nuova opacità stromale periferica di che ratopatia superficiale severa con o senza depositi diffusi simili a microcisti che coinvolgono la cornea centrale offuscamento subepiteliale centrale o nuova opacità stromale centrale e un difetto corneale può portare a ulcere corneali queste devono essere gestite tempestivamente e come clinicamente indicato dallo specialista oftalmologo tabella 2 modifiche della dose per altre reazioni avverse reazione avversa severità modifiche della dose raccomandata trombocitopenia vedere paragrafo 44 grado 2 3 conta piastrinica da 25.000 meno di 75 0 0 0 microlitri valutare la sospensione di blen rep e barra o la riduzione della dose di blen rep a 1,9 mg barra chilogrammi grado 4 conta piastrinica inferiore a 25 0 0 0 microlitri sospendere blen rep fino a miglioramento della conta piastrinica grado 3 o migliore valutare di riprendere ad una dose ridotta 1,9 mg barra chilogrammi reazioni da infusione vedere paragrafo 4 4 grado 2 moderato interrompere l'infusione e fornire un trattamento di supporto dopo risoluzione dei sintomi riprendere ad una velocità di infusione ridotta di almeno il 50 per cento grado 3 o 4 severo interrompere l'infusione e fornire il trattamento di supporto dopo risoluzione dei sintomi riprendere ad una velocità di infusione ridotta di almeno il 50 per 100 nel caso di reazione da infusione anafilattica o pericolosa per la vita interrompere definitivamente l'infusione e distituire adeguate cure di emergenza le reazioni avverse sono classificate secondo i criteri terminologici comuni per gli eventi avversi cae common terminology criteria for adverse events del national cancer institute popolazioni speciali anziani non ha necessario un aggiustamento della dose per i pazienti anziani vedere paragrafo 52 compromissione renale non ha necessario un aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata e graffra 0 in 30 ml bar a min nei pazienti con compromissione renale severa vi sono dati insufficienti e non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia vedere paragrafo 52 compromissione epatica non ha necessario un aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione epatica lieve bilirubina da maggiore di ulna minore o uguale a 1,5 a ulna spartato transaminasi ast maggiore di ulna nei pazienti con compromissione epatica moderata vi sono dati insufficienti e nei pazienti con compromissione epatica severa non vi sono dati per poter fare una raccomandazione riguardante la posologia vedere paragrafo 52 peso corporeo blen rep non ha stato studiato nei pazienti di peso corporeo 130 kg vedere paragrafo 52 popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di blen rep nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite non ci sono dati disponibili modo di somministrazione blen rep a per uso endovenoso blen rep deve essere ricostituito e diluito da un operatore sanitario prima della somministrazione tramite infusione endovenosa blen rep deve essere infuso nell'arco di almeno 30 minuti vedere paragrafo 66 controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 avvertenze speciali e precauzione di impiego tracciabilità al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati reazioni avverse corneali sono state segnalate vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono stati effettuati studi di interazione formale con bell'antamab mafodotin sulla base dei dati in vitro e i dati clinici disponibili via un basso rischio di interazioni farmacocinetiche vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere blenreppe durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere blenreppe durante la gravidanza e l'allattamento donne in età fertile barra contraccezione maschile e femminile donne lo stato di gravidanza delle donne in età fertile deve essere verificato prima di iniziare la terapia con blenreppe le donne in vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari blenre paltera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari vedere paragrafi 4 4 e 4 8 i pazienti devono essere informati di prestare attenzione quando guidano utilizzano macchinari in quanto blenreppe può influenzare la vista effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza le reazioni avverse descritte in questo paragrafo sono state segnalate da 95 pazienti che hanno ricevuto 2,5 mg barra chilogrammi di blenreppe nello studio 20 56 78 le reazioni vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio negli studi clinici non si sono verificati casi di sovradosaggio non ci sono antidoti specifici noti contro il sovradosaggio di belantamab mafodotin in caso di sovradosaggio il paziente deve essere monitorato per qualsiasi segno o sintomo di effetti avversi e deve essere immediatamente istituito un trattamento di supporto appropriato proprietà farmacodinamiche categorie farmacoterapeutica farmaci anti neoplastici anticorpi monoclonali codice atc l01 xc 39 meccanismo d'azione belantamab mafodotin a un anticorpo monoclonale igg1i umanizzato coniugato con un agente citotossico malemido caprol monometilauristatina f mcmath belantamab proprietà farmacocinetiche assorbimento la concentrazione massima di belantamab mafodotin sia verificata alla fine o poco dopo la fine dell'infusione mentre il picco delle concentrazioni di cismc maf sia avuto 24 ore dati preclinici di sicurezza tossicologia e barra o farmacologia negli animali negli studi preclinici i principali eventi avversi direttamente associati a belantamab mafodotin nel ratto e nella scimmia a esposizioni a 0 ien 1,2 volte la dose clinica raccomandata elenco degli eccipienti citrato di sodio acido citrico tre allosio di drato ed etato di solico polisorbato 80 fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato